Le iscrizioni sono tuttora aperte Ok allora ricordiamo di nuovo le modalità della martinata e questi piccoli per farli muovere un po', il guaio che man mano si diventa più grande il cavolo di numero che trovano altre cose da fare, non preintendete, fanno di altri sport Allora, e poi devo trovare il modo di uscire, andare lì e mettere Via per favore, via dal percorso Vieni, vieni questo Eccoli qua Sì, dite che a tutti viene dato un premio, guardate un po' che roba, una coppa Vincono tutti oggi Partono i ragazzi dalla gara agonistica competitiva con vere categorie Adesso devo fare un altro annuncio che modifica un po' il precedente Allora, la viabilità viene bloccata per metà della sede stradale Quindi cortesemente L'abbiamo già chiamato Arrivano i primi due giovanotti della Bonifortiva San Patrizio Qui siamo andati nella provincia Allora, arrivano a coppia Che è anche così in ordine Che rispattano i temporali giudici Bravi Simone e Federico sono baderrato Sono i primi due Poi a seguire gli altri Ovviamente dopo voi li citeremo tutti Qui trovate la fase delle premiazioni Bene, arriva ancora la signorina Bravissima E' la seconda signorina 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 Bravi, bravi Arrivati Almeno di Vedi che impegno che ci mettono questi ragazzi Ma si vede dal viso Per fare la fatica Ed impegno 1.500 metri esatti Il problema fagonava Gli insuranti e controllanti Se le luci chiedono le istanze esatte E anche per questo è il motivo Che la gara femminile Che fa esattamente i 5 piloni Partirà Qui indietro A questo punto A circa 280 metri Saluto A patocchio De lo anziani Massimo Come dire che è tornato A posto Ancora un po' di godine Stava della sicurezza No Stava seguita Sì Ma La 95 La 95 La 95 L'orenza oggi proprio Non arriva Il mio Lorenza No 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 Il mio Lorenza Stava Non mi chiede neanche C'è anche la femmina Sì ma quella Quella è camminando Non è un problema Tutta la famiglia Tocchi di corso Oggi Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua il mio bambino Dicevo che non arrivasse più Vieni Giulia Che dobbiamo vedere Stato La Luzia Mi sa che Finita Ricordiamo ancora una volta Mentre soltiamo Valentina Ebu Cos'è? Nigeria Nigeria Allora Dicevo Fai attenzione Tecnici Stanno riscaldando Sulla praga Stanno legati Per cortesia E la trafico Veicola Non ricordo Nella direzione Personale Grazie Anche perché Se vi tocca La macchina Fa anche male Allora sono La Ionet Anane Queste sono le gare La tetti gare Ci chiamano Ricchi La bella Fila Mamma mia Che brusa vostra Questa Santo cielo Ecco qua Subito Gruppetto di testa Con Michela Danata La parola natura Di Tullinelli Per la gente Di Paolo Vediamo anche la Pertura Se riesce ad andare Un po' più piano Altrimenti non riesco A prenderle Un po' più piano Un po' più piano Un po' più piano Bologna Vai con la banda La tila armonica Ricora Un po' più piano Il pilombo delle donne è segnato qui di qua, perché sono in distanza diversa. Il pilombo delle donne è segnato. 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 Il pilombo delle donne è segnato.